Mi viene da dire che è meglio così che non al contrario, altrimenti saremmo molto più preoccupati. Invece abbiamo oggi continuato sulla falsa riga di quelle che sono state le due vittorie precedenti, quindi con un impatto molto forte, con grande concentrazione. Penso che abbiamo fatto difensivamente forse la miglior partita quest'anno. Abbiamo tenuto una squadra dal potenziale offensivo molto importante, segna più di 81 punti a 65, quindi una differenza enorme per la paracanestro, con il 19% da 3 punti, che vuol dire contestare tutti i tiri o quasi, insomma non lasciare facili opportunità. Una squadra che sapevamo avere grande talento. Membro di sicuramente la dura lezione che abbiamo preso tecnicamente a Varese, e quindi abbiamo affrontato con grande rispetto, come è giusto che sia. Siamo riusciti anche a ribaltare la differenza canestri, che potrebbe essere anche importante in futuro, quindi meglio di così oggi non potevamo fare. Sì, sicuramente siamo stati anche oggi consistenti dentro l'area con i nostri due, soprattutto, e anche con un buon apporto, magari non troppo a lungo dal punto di vista del minutaggio, ma con discreta consistenza, sia di Biliga nel primo tempo, Dragic meglio nel secondo. I nostri due, sappiamo che sono, parlo di Ivano, chiaramente Thomas, sono l'architrave di questa squadra, sicuramente, insomma, giocatori importanti, da cui non possiamo prescindere, che quando hanno questo tipo di impatto sono un grande problema per l'avversario, una grande fortuna per noi. Eh, ma questo per noi era un confronto diretto estremamente importante, lui ha giocato tantissimo, più di tutti gli altri, anche troppo, forse, per certi aspetti, però volevamo mantenere il confronto diretto proprio con EBR, che io conosco bene, so essere un grande giocatore, giocatore di grande talento e di impatto, con un giocatore della stessa taglia, quindi lui aveva anche la possibilità oggi dal punto di vista difensivo e anche offensivo. È vero che hanno fatto più o meno pari, però, insomma, è stato anche bravo a non forzare la mano, a non cercare situazioni a tutti i costi, ma lasciare che la partita prendesse il suo ritmo, insomma. Lui, oggi, poi, chiaramente abbiamo giocato poco con Foster, che sicuramente si deve integrare, Lacovic fino a dieci minuti all'inizio non sapevamo se sarebbe neanche entrato in campo, perché aveva un problema della schiena da giovedì abbastanza serio, cioè serio nel senso che non aveva potuto allenarsi, non si era potuto allenare, quindi, insomma, la squadra doveva essere pronta a più opzioni, bene così. E speriamo che mantenga questo spirito, questo impatto, forse è un forte risultato del Napoli Calcio, siamo andati a vedere assieme mercoledì, probabilmente era galvanizzato anche da questo, no, scherzo, insomma, lui oggi aveva un compito anche delicato, perché poteva partire dall'inizio, se Laco non se la sentiva, non sapeva quanto avrebbe giocato, insomma, è stato bravo, è una partita cui anche lui teneva molto. Ma, guarda, non so, i dati oggettivi direbbero questo, cioè abbiamo vinto tre partite consecutive che non avevamo mai fatto prima, ma al di là delle vittorie, che poi non è che siamo imbattibili improvvisamente, senza scaricare esagerate colpe su chi non fa più parte del roster o del nostro progetto, sicuramente lo spirito nella squadra, in spogliatoio, in campo, in allenamento, nella partita, oggi si è visto chiaramente, si era visto anche nelle altre due partite, ha sicuramente beneficiato, come dire, di una sferzata che non è stata solo psicologica, ma è stata anche, appunto, oggettiva in qualche maniera, no, con movimenti importanti in uscita e un nuovo movimento in entrata, che probabilmente la squadra, di cui la squadra probabilmente aveva estrema necessità e bisogno, per il momento sta andando bene, insomma, quindi, bene così. Eh sì, perché, innanzitutto, due partite consecutive in casa, anche dal punto di vista mentale, sono anche un impegno dal punto di vista psicologico, no, e non dobbiamo pensare di aver raggiunto niente, perché non abbiamo raggiunto niente, ma forti questa partita, dobbiamo affrontare una squadra di grande livello, come Cantù, quindi, senza nulla toglia la Varese, non dico di un gradino superiore, almeno in classifica, avanti a noi, quindi un'altra partita importante, che abbiamo perso l'andata, però abbiamo una settimana per inserire meglio Foster, per gli anni, che recupereremo, io penso sicuramente al 100%, anche Lakovic, che oggi ha giocato, ma non era il meglio, e quindi, insomma, dobbiamo positivamente, ma con umiltà, affrontare la prossima partita qui a Vellino e cercare di dare un'altra soddisfazione ai nostri titoli.